Finalmente dopo lunghi mesi di attesa è arrivato Con tanto di do gala, grazie posti italiane Quindi direi che senza indugio e senza gloria andrei a aprire subito il pacco Perché lo hanno aperto e non so se è completo Ci ha messo tre mesi da arrivare Tre mesi, non dico altro Ok, 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 ok Allora, prima di tutto Oh c***o Dai, creo un power system Quelli nuovi usciti Quindi, una Il secondo power system dai clon Due Via Allele, oh sì, ciao Fuori da papino, vieni qua da papino Vieni qua da papino Recolor, sideswipe Anime color Ultimo, ma non ultimo Finalmente Sunstreaker MP39 Questo lo volevo, c***o Cioè, fate conto che dovevo farci la review a fine gennaio O il primo di gennaio Era appena uscito e c'era un top di hype Adesso ci saranno uscite fuori almeno, non so, 40 milioni di review Quindi, vabbè, la faccio lo stesso perché la devo fare Ma fa un po' in c***are E quindi, sì Bene, bene, bene Preparatevi che fra poco ci saranno queste review Quindi se ne volete una in prima, una dopo Scrivete nei commenti che la faccio subito Ah, e dimenticavo Questa manietta è in vendita su TeePublic L'ha fatta mio fratello Comprandola gli date una mano con il suo nuovo progetto Quindi, sì Acquistatela Detto questo, al prossimo unbox